Federica nel centro vasca, parte alta del centro vasca, la cuffia argentina vediamo come riuscirà a vivere questo rientro 25 metri alla fine, Federica Pellegrini che è riuscita a superare l'australiana a Titmus c'è una Siostrom che sta crescendo tantissimo in corsia numero 6 pericolo che arriva da quella corsia con Federica Pellegrini che però è sempre davanti sta per realizzare l'ennesimo sogno, l'ennesima impresa 1.54.22, continua la leggenda dell'araba felice e si allunga il suo record pazzesco ecco vediamo la Sara Simeoni che non ha atteso la fine della gara, ha fallito è il primo errore commesso da Sara Simeoni noterete la concentrazione spasmodica ed ecco 1.99 superato, è eguagliato il primato del mondo ha eguagliato per la seconda volta il primato del mondo Sara Simeoni non sa trattenere la piena soddisfazione grazie mille grazie mille Grazie a tutti.